bella a tutti ragazzi benvenuti in questo video nuovo video lunedì primo maggio che sarà lunedì io e mia sorella Beatrice dei Ligori a ciao a tutti e ricordate che io sono Giulia dei Ligori faremo un video ma di sera alle 5 e voi dovrete vederlo fatemi questo piacere Giulia dei Ligori saluta e anche Beatrice ciao iscrivetevi al nostro canale vogliamoci vogliamo 10 like quanti like 38 like grazie e 38 like sì sì